L'arrivo dei Maggi a Gerusalemme destò curiosità e interesse, anche se nella città di Gerusalemme si era abituati ad avere la visita delle varie carovane. Ma questa volta i personaggi che giungono da lontano presentano un quesito che scuote un po' la popolazione. Già la popolazione aveva fatto i calcoli, erano maturi i tempi della nascita del Messia. I Maggi giuncono a Gerusalemme e chiedono dov'è nato il re dei Giudei, quindi il Messia. E quindi ci fu un trampusto perché corrispondevano alle settimane della nascita del Messia e quindi il re Erode esorta i Maggi di andare a Betlemme e fargli sapere dove si trovava il Messia, non per adorarlo come lui affermava, ma per sbarazzarsi di un altro pretendente al trono. Bene, i Maggi ripartono e giuncono a Betlemme e lì trovano il nato Messia. A questo punto però c'è un tato fastidioso. L'angelo in sogno dice a Giuseppe di prendere il bampino e andare via, correre in Egitto per salvare il bambino da Erode. Qui noi ci mettiamo agli interrogativi che certamente si sono messi Maria e Giuseppe, ma se il bambino che teniamo noi tra le braccia è il figlio di Dio ed è Dio perché non ci sono altri mezzi per salvarsi. C'è proprio bisogno che noi arriviamo in Egitto per salvare il figlio. Noi persone umane senza conoscere la lingua, senza avere possibilità di impiego, di lavoro, eccetera, come facciamo? E qui scatta la fede di Maria e Giuseppe. L'angelo ha parlato in nome di Dio e noi eseguiremo i suoi desideri. E raccolgono i quattro cenci e partono per l'Egitto. A questo punto la vita dell'Egitto non ci viene raccontata dalla Sagra Scrittura. Certamente creò una difficoltà enorme a Maria e a Giuseppe in un mondo straniero senza la lingua, senza lavoro, senza avere un cespite per passare la vita quotidiana. Come risolvono Maria e Giuseppe questa crisi terribile? Con la fede in Dio Padre. Quanta differenza tra noi che magari per ogni incomprensione, per ogni progetto che non vediamo attuato e che magari abbiamo fatto la novena e ci siamo raccomandati al Signore, eccetera, pensiamo subito che Dio ci ha abbandonato e invece la testimonianza di Maria e di Giuseppe ci dicono quando è stata forte la loro fede. Padre Pio ha vissuto anche lui, in un certo qual senso, questa crisi della partenza. Dopo la sommossa del popolo, l'incomprinzione con la Santa Sede, eccetera, Padre Pio viene trasferito da San Giovanni Rotondo e viene assegnato al convento di Cingoli nelle Marche. Ma c'è la sommossa del popolo, non può partire. Giunce da Cingoli il superiore sicuro della sua azione, dice prendo io Padre Pio in custodia, e lo faccio partire da San Giovanni Rotondo. E addirittura suggerisce un metodo per far uscire Padre Pio da San Giovanni Rotondo senza inconvenienti delle guardie del popolo che bloccavano le strade. E dice, è strano dire la verità, quello che sto per dire, e dice ai frati, Padre Pio può uscire da San Giovanni Rotondo con molta semplicità. Sul carretto mettiamo due botte. In una botta mettiamo il vino, nell'altra botte mettiamo Padre Pio. Ognuno pensa che sono botte piene di vino e quindi noi usciamo fuori dal paese. Naturalmente il superiore si oppose, dice però quanto sapranno la gente che noi abbiamo fatto partire Padre Pio se la prenderanno contro di noi. A questo punto allora che cosa fare? Obbedienza cieca alla Santa Chiesa. Queste sono le parole di Padre Pio. Quanto volete io vengo col mio superiore, perché dove stai superiore c'è Dio con lui. E io sono disposto a partire da San Giovanni Rotondo e nello stesso tempo a obbedire alla Chiesa. Il trasferimento non viene più attuato, però la Santa Sede prende provvedimento verso il popolo che aveva creato la summossa e dice, Padre Pio rimane a San Giovanni Rotondo, non parte più, però il popolo non lo vedrà più. E quindi viene indicato a Padre Pio di celebrare la messa solo nell'interno del convento e non più in Chiesa. E gli si proibisce anche di scendere al piano terra, potremmo dire agli arresti domiciliari. Ma Padre Pio ha obbedito alla Chiesa. Grazie!